Le piante velenose possono trovarsi sul balcone o nel giardino di casa. Bisogna prestare la massima attenzione a bambini e animali domestici, tipo gatti o cani, eccetera. Vediamo ora le piante che contengono nelle foglie, nei frutti o in altre parti sostanze velenose. Il ciclamino è una pianta da balcone molto bella. Le foglie sono di colore verde a forma di cuore. I fiori del ciclamino possono essere di colore diverso, bianco, rosa, rosso e fucsia. Dove è contenuto il veleno? Il veleno è nei tuberi. Se si ingerisce una parte del ciclamino, di sicuro è facile intossicarsi. Il gelsomino è una pianta rampicante che fiorisce a primavera. Il gelsomino ha fiori bianchi e profumati e la sostanza velenosa è nelle bacche che non devono essere ingerite. L'iris è una pianta dai fiori elegantissimi, di colore azzurro. È una pianta rizomatosa. Che significa? Significa che la pianta ha radici lunghe. La radice si chiama rizoma. Proprio nel rizoma c'è la sostanza tossica. Se si ingerisce, causa intossicazione. La zalea è una pianta famosa. Sicuramente, almeno una volta, tutti abbiamo regalato o ricevuto un regalo. Ma sapete che le foglie sono velenose? Le foglie della zalea sono di colore verde e di forma ovale. I colori dei suoi fiori variano dal bianco, al rosa, al rosso e al blu, eccetera. L'intossicazione avviene se si ingeriscono le foglie della zalea. Le foglie della zale. Grazie a tutti